Piccole dissertazioni personali per chi sa, chi ancora non sa, non saprà mai e mai più saprà. Continuerà il suo percorso seguendo le direttive del pastore in carica, che si è autonominato pastore, senza che la massa sappia che non è il buon pastore. Qualcuno di voi ricorderà gli anni 60, meglio il 1960 per essere precisi, vale a dire nove anni prima del primo allestimento mondiale dello straordinario show che ha visto l'uomo, non che è andato, ma che ha visto l'uomo sulla luna. Servivano mesi, anni di preparazione per essere allenati alle grandi accelerazioni, per essere sicuri attraverso i ricercatori di allora che l'uomo o la donna fossero in grado di superare e sostenere questi grandi sforzi fisici. Poi dovevano assicurarsi che gli astronauti fossero capaci di sostenere gli straordinari effetti delle accelerazioni, quelli dell'incredibile forza di accelerazione che dovevano sostenere al momento del lancio. Dovevano studiare i comportamenti degli esseri umani, siamo noi gli esseri umani, nelle varie posizioni limite del corpo. Già allora, siamo nel 1960, si esercitavano o meglio si allenavano simulando un ambiente senza la pseudogravità, perché in realtà si tratta di differenza di densità, grazie agli aerei in caduta libera dove testavano le funzioni naturali necessarie per vivere, mangiare, bere, digerire, eccetera. Non so come si allenavano per le funzioni di espulsione dei cibi una volta digeriti. Voglio dire, nel viaggio dove vogliono insistere a far credere alle amebe del buon pastore che la signora Samantha, che è appena approdata sulla pseudo ISS, dove è partita dalla stazione di lancio ed ha impiegato 17 ore circa, vi siete mai chiesti durante questo itinerario di attori dell'equipaggio dove vanno a fare semplicemente pipì in quelle 17 ore? Intendo dire, i processi chimici naturali non è che si accendono e si spengono come si fa con un interruttore, funzionano sempre. È come doveste lasciare casa alle 7 del mattino, e pensate eh, e fino alla mezzanotte successiva non potete andare in bagno. Non so voi, ma nel momento in cui arrivo finalmente a casa, volevo dire sulla ISS, la prima cosa sarebbe di correre in bagno e liberarsi, altro che sorrisi ed abbracci. Invece, osservatela, arriva, ha già cambiato il costume di scena in quel piccolo spazio e non ha ancora alcun stimolo di correre e liberarsi. Ma torniamo a noi. Allora studiavano gli effetti della gravità zero, facendo esperimenti sul disorientamento, sottoponendo gli astronauti dentro a giganteschi giroscopi. Adesso passiamo al 1969, osservate l'inquinamento dei razzi di allora. Questo è un filmato NASA, delle esercitazioni degli astronauti in partenza. Osservate che meraviglia, nessuna nuvola di fumo, nessuna enorme fiamma. Questo è Saturno V, alto più di 85 metri. Aveva come obiettivo portare l'uomo sulla Luna. In quegli anni, per fare l'astronauta, era necessario aver ottenuto il dottorato. Anche allora, nel 1969, dovevano allenarsi per qualsiasi disorientamento e dovevano seguire dei corsi sul volo, sulla meccanica celeste, sulla propulsione di razzi, sulla fisica dello spazio. Domanda, ma come facevano a studiare tutte queste cose sullo spazio, se non erano ancora andati nello spazio? Mistero della fede! Studiavano anche la geologia. Mmm... Ma... Ah sì, ho capito! Dovevano allenarsi a come scegliere le pietre sulla superficie della Luna. Le scritte che vedete apparire in basso di questo video servono, per quelli più attenti, che vogliono fare degli approfondimenti personali. Sono i titoli che trovate su Indice Alfabetico, tipo quella che vedete adesso con scritto ROCCE LUNARI FALSE. Si allenavano sugli elicotteri per simulare arrivo e partenza in verticale del modulo lunare. Ma funzionava con la propulsione la navicella, non con le pale rottanti! Questo è interessante perché è quello che hanno continuato a fare nella realtà in tutti questi anni. Per familiarizzare con queste sensazioni a zero gravità o assenza di peso, gli astronauti viaggiavano su aerei con delle precise traiettorie, allenamenti come sommozzatori, un altro metodo per simulare l'assenza di peso lavorando sott'acqua. All'interno di enormi contenitori gli astronauti entravano in acqua per sperimentare il galleggiamento neutrale e non hanno più smesso. Una volta sott'acqua praticavano i lavori che avrebbero dovuto fare nella vera gravità zero dello spazio. Perché ho voluto mostrarvi tutto questo? Semplicemente per un confronto. Una volta gli astronauti dovevano sostenere tutte queste incredibili prove mentre adesso partono dal proprio paese, in questo caso l'Italia, e si apprestano ad entrare in scena per l'incredibile recita nello spazio. Siamo nel 2022 e ancora non è stata fatta una ripresa live a 360 gradi tutto attorno. Tengono sempre in mano un microfono che serve per distrarre perché non hanno bisogno di un microfono ad una distanza di solo qualche metro. L'ambiente non è sprovvisto di aria per trasportare le onde sonore. Ve la ricordate la Cristoforetti quando ha fatto apparire dal nulla il pupazzetto? Avevano dimenticato di inserirlo nelle prime realtà virtuali? Sono sempre sorridenti ma, e questo è un vostro commento, qualsiasi liquido corporeo in mancanza di gravità dovrebbe causare qualche tipo di difficoltà dalla deglutizione agli acidi dello stomaco, dovrebbero fuoriuscire dalla bocca pressoché perennemente. Abbiamo persone con problemi di reflusso sulla Terra, figuriamoci sulla presunta stazione spaziale. E l'apparato vestibolare? A causa della mancanza di peso tutti i muscoli smettono di lavorare, oltre al fatto che l'endofina confinata all'interno dell'apparato vestibolare non può funzionare quando non può più rimanere sul fondo, ma gli astronauti non ne risentono. Poi avete mai fatto caso al fatto che gli astronauti nei loro movimenti, nella mancanza di peso, tendono sempre a non allineare la testa col corpo? C'è il bellissimo video ISS, teste non allineate col corpo? Sono a terra, non nello spazio. Ma torniamo alla nostra attrice, Samantha Preveggente. Sì, no? Questa persona è Leonardo Nimoy. Chi è Leonardo Nimoy? Vai! È Spock, brava. Quello lì è il dottor Spock. Probabilmente nessuno di voi l'avrà riconosciuto, forse solo lei. Quando però vi ho detto che è il dottor Spock, chi è che conosce il dottor Spock? Un sacco di persone. Lui è un attore, è un artista, è una persona che non è un lavoro vero. Fare l'artista non è proprio una cosa, cioè non è che ci paghi il mutuo di casa, no? Invece è un lavoro vero, è un lavoro dove sei laureato, sei ingegnere, sei medico, sei avvocato. Sapete chi è questa persona? Lei ha un lavoro vero. Lei è un pilota militare, è un astronauta, è Samantha Cristoforetti, conosce cinque lingue, due lauree. In questo momento è in orbita e il problema con Leonard, che è quello di prima, è che l'anno scorso è morto. Per cui quello che è successo è che lei in orbita ha fatto questo gesto, che è il saluto di Star Trek, e ha indossato la maglietta di Star Trek. Sveglia gente! La Cristoforetti è partita il 23 novembre 2014. Circa 90 giorni dopo, il 27 febbraio 2015, muore l'attore di Star Trek Leonard Nimoy. E miracolo dei miracoli, la signora astronauta non solo lo saluta, ma indossa la maglietta di Star Trek, o meglio ha posto sulla maglietta il vettore di Star Trek. Come diavolo hanno fatto a prevederlo? Non serve aggiungere altro. Hanno voluto strafare. Quando mai una persona coscienziosamente a posto si porterebbe le magliette di tutti i serial televisivi dello spazio o nello spazio? Qui la signora Cristoforetti sta via 200 giorni e sa già che muore l'attore Leonard Nimoy. Portaiella. Comunque, per chi viaggia avete mai osservato quanti capi di abbigliamento nelle sole magliette si portano nello spazio i nostri connazionali? Eh? Guardate un po'. Un vagone! Un vagone! Dove le mettono? Non si sa! E la schiereria? Dove si trova? Guardate che belle! In che belle condizioni sono! E la lavatrice come cavolo funziona! E adesso Samantha fisica della gravità. Perché si fluttua a bordo dell'ISS? Il libro scolastico sbaglia la risposta e Astro Sam lo boccia. È una sciocchezza! Un libro scolastico di prima superiore scrive l'intensità della forza di gravità non è costante allontanandosi dalla superficie terrestre diminuisce l'intensità della trazione gravitazionale. Questo fenomeno è ben evidente osservando gli astronauti in orbita sulla stazione spaziale internazionale dove l'intensità della forza di gravità è ridotta al punto che persone e oggetti devono essere ancorati con dei sostegni per non volare nell'abitacolo. Ora una mamma ha postato su twitter la foto con la didascalia del libro di scuola dei figli e spiega sulla stazione non c'è gravità perché è troppo lontana dalla terra e Samantha Cristoforetti risponde secca. Quanto è scritto? È una grandissima sciocchezza aggiungendo allibita ma veramente si tratta di un testo scolastico? Primo anno delle superiori ha risposto la mamma e a questo punto incuriosita come altri commentatori che sono intervenuti chiedendo lumi. Il punto infatti è che come Samantha ha specificato alla quota della ISS, fate attenzione a quello che dice, la trazione gravitazionale è circa il 90% di quella terrestre cioè praticamente uguale ma allora perché fluttuano? Per chi ha seguito i fatti ha visto la Zanichelli scusarsi per un articolo dove si evinceva che gli astronauti devono essere ancorati a dei sostegni per non volare nell'abitacolo. La signora Cristoforetti in un post su twitter ha rimarcato che non è vero tanto che è riuscita a far rimuovere il libro di testo con tanto di scuse da parte della casa editrice ma l'astronauta che segue afferma il contrario ovvero che devono essere ancorati per non volare via. Prima in lingua originale perché c'è Chimillanta che mi invento le traduzioni. Tim, grande questione. Quindi la forma che facciamo questo è che abbiamo un po' come un sarnese, come un padone senza plastica, ma lo usiamo con le corde di lunghezza per mantenermi sotto e la lunghezza delle corde di lunghezza può determinare quanto forza che abbiamo per portare noi stessi verso il padone, altrimenti quando abbiamo fatto un step, ci siamo fuori. Tim, ottima domanda. Il modo perché facciamo questo è perché abbiamo una specie di imbragatura, una specie di protezione sulle spalle senza materiale plastico. Usiamo questo con delle corde elastiche per tenerci ancorati in basso e la lunghezza delle corde elastiche è in grado di stabilire quanta forza dobbiamo avere per tenerci ancorati durante i lavori, perché come facciamo un passo saremmo spinti via da noi stessi. Samantha, ma sei sicura di farcela ancora a recitare? Purtroppo, sfortunatamente, disgraziatamente. Dimmi una cosa per la quale insomma un pochino di dispiacere, perché se no lei mi dice non mi dispiace nulla, ma ci sarà una piccola cosa per la quale… Sicuramente una grande rinuncia per me è stata il dover comunque per diventare astronauta rinunciare alla carriera operativa di pilota militare che per me era appena iniziata, però insomma purtroppo si è presentata questa occasione… Ma siete sicuri che voleva fare l'astronauta o l'attrice? Grazie. Ciao. 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 Ciao.